La corsa del Lea Maranto non si ferma, l'Arezzo Calcio Femminile batte 1-0 la Lucchese, portando a casa così la vittoria in questo derby toscano che per Lea Maranto è la quarta vittoria consecutiva. Il punteggio si sblocca dopo appena 5 minuti dal fischio di inizio e la formazione di Testini, firma il gol con Ceccarelli che insacca di testa su cross perfetto di Gnisci. Poi si susseguono varie palle gol interessanti, in particolare con Razzolini e Orlandi. Nel secondo tempo è ancora l'Arezzo a spingere sull'acceleratore alla ricerca del raddoppio. Prima Verdi calcia sulla traversa, poi Razzolini conclude a lato a fil di palo. Rimasta a galla la Lucchese al quinto dal termine, ha una grande opportunità di pareggiare con Eletto, ma si presenta a tu per tu con il portiere a Maranto e trova però l'intervento prodigioso del portiere. Nonostante dunque un finale infuocato, il punteggio non cambia e l'Arezzo può ancora una volta esultare. Sapevamo delle qualità fisiche di questa squadra, è una squadra costruita con tanti giocatrici strutturate, nel femminile questa cosa qui incide moltissimo, però tutta la settimana abbiamo lavorato sugli scampi brevi, cercando di venire fuori dal pressing della pressione con degli 1-2. Sono state brave in parte a fare quello che avevamo preparato, in parte siamo stati un po' in difficoltà, il campo magari non era oggi perfetto, quindi quello che avevamo preparato è riuscito un pochettino meno, però alla fine di tutto le ragazze hanno fatto una buona prestazione, abbiamo concesso pochissimo, a parte l'ultima situazione nei minuti finali è andata abbastanza in gestione la gara. 1-0 va bene, è importante vincere, non c'è bisogno di fare 10 gol, è normale che se avessimo fatto qualche gol in più probabilmente la partita l'avremmo gestita meglio, avremmo sofferto meno e sicuramente sarebbe stato più proficuo per le ragazze che magari avrebbero messo in cascina qualche altra rete. Diciamo che quando la partita è sull'1-0 ogni momento, ogni occasione, ogni errore può essere fatale, diciamo che loro essendo una squadra fisica fanno un tipo di gioco diverso dal nostro, ma comunque il nostro modo di giocare è un gioco rapido, veloce, che mette in difficoltà le squadre fisiche si è visto dalle occasioni che abbiamo avuto, ma comunque l'importante è, diciamo, oltre che coltivare le occasioni, anche coglierle e andare avanti con il risultato. Sono partite che ti preparano al futuro, a un'eventuale Serie B, adesso noi pensiamo domenica per domenica, però è giusto che il campionato abbia tutte squadre di un livello alto, medio-alto e che comunque si giochi ogni domenica su risultati 1-1, 2-2, partite giocate, perché così si cresce.